Buongiorno a tutti e grazie di avermi dato la possibilità di poter raccontarvi la mia esperienza. Quando ho accettato di candidarmi a sindaco di Lampedusa nel 2012, carica che ho ricoperto per cinque anni come l'onore più grande della mia vita, sapevo già che Lampedusa non era un posto qualunque, la sua specialità sta nel fatto di essere isola e come tutte le isole è un nodo delle migrazioni animali e umane, ma soprattutto per la sua posizione geografica è un'isola che sta al centro del Mediterraneo, è un ponte tra due continenti, tra l'Africa e l'Europa. Questo è stato sempre nella storia più antica dell'isola ed è forse quello che ha insegnato ai Lampedusani ad accogliere. Vi racconterò appunto di questo perché credo che tutte le volte che giro e raccolgo gli inviti come questo mi viene rivolta sempre la stessa domanda perché, come mai Lampedusa è stata così accogliente? Io credo che la prima risposta sia proprio questa, la geografia, è la geografia che ha insegnato ai Lampedusani ad accogliere da sempre. L'altro privilegio, io lo considero un privilegio e non una disgrazia o una vergogna che hanno avuto i Lampedusani è quello di fare esperienza, di conoscere e parlare con le migliaia e migliaia di persone che in vent'anni sono sbarcate a Lampedusa, non soltanto il fatto di vederle scendere dai barconi, persone che hanno lasciato, che lasciano tutto, tutto dietro le spalle, anche se l'informazione, i media ci raccontano di queste persone come persone sradicate, come se venissero qui senza lasciare niente, in realtà lasciano la loro terra, lasciano i loro affetti, lasciano tutto, o forse nulla, a volte non lasciano neppure una casa perché non ce l'hanno e arrivano senza nulla, senza un bagaglio, senza una valigia, soltanto con dei ricordi, con le lettere, foto, il Corano, la Bibbia, molte più Bibbie che Corani, da Lampedusa sono passate e passano molti più cristiani che musulmani, dunque i Lampedusani hanno avuto l'opportunità di conoscere le persone, sentire i loro racconti, vedere le loro ferite, vedere minori, ragazzi di quattordici anni, di tredici anni che viaggiano da soli e che quando tu gli chiedi ma perché sei venuto qui senza la tua famiglia, loro ti spiazzano, ti lasciano senza parole perché ti rispondono io non ho più una famiglia, sono tornato a casa un giorno e non ho trovato più neppure la mia casa, oppure ti dicono la famiglia si è riunita, si è indebitata, ha venduto tutto per investire su di me perché io venga qui a lavorare e mandare soldi a casa, oppure ti dicono che sono stati per anni prigionieri nei campi della Libbia e ti mostrano le ferite, un bambino mi ha mostrato, è stato tenuto, sequestrato per tanto tempo per costringere la sua famiglia a mandare ancora soldi a casa, la famiglia non poteva più mandare soldi e lui ha venduto il rene per poter continuare il suo viaggio. Ascolti delle storie che sembrano inventate ma la cui verità è proprio scolpita nel loro corpo, con le cicatrici, con le ferite. Quando si tratta di donne quelle ferite sono anche scolpite nell'anima perché le donne vengono tutte stuprate, tutte. I superstiti del 3 ottobre che sono stati trattenuti poi a Lampedusa per più di un mese, quasi un mese, sono durate le operazioni di recupero di quei corpi perché, appunto, lo ricordavo ieri sera in un'intervista alla radio spagnola, la barca è affondata e si è adagiata a 50 metri di profondità sotto il mare e i corpi che erano sulla coperta della barca, sono stati raccolti il primo giorno e nei giorni successivi, galleggianti o depositati sul fondo, ma i corpi che erano intrappolati nella stiva, quelli sotto, sono stati recuperati dai sub lungo diversi giorni con un lavoro faticosissimo e straziante, tanto che abbiamo dovuto organizzare anche attività di supporto psicologico per i subacquei che hanno lavorato al recupero di quei corpi. A quella profondità potevano stare, ogni sub poteva stare solo tre minuti e tornare su facendo la decompressione, quindi le persone impegnate in quei soccorsi erano tantissime e quando venivano, quando tornavano sul molo e svenivano, non dalla fatica ma dall'orrore che avevano, che erano stati costretti a vedere, i corpi che prendevano e si riportavano a galla esplodevano, tanto erano gonfi di acqua, di liquido. L'orrore che abbiamo vissuto in quei giorni ha fatto nei Lampedusani un lavoro molto più grande e in tempi più brevi di quello che si può fare con un'operazione culturale. L'esperienza è qualcosa che ti costringe a vedere la realtà, che ti sbatte in faccia la verità e non c'è propaganda che tenga, non c'è Salvini che tenga, non ci sono i ministri della paura come noi in questo momento chiamiamo il nostro ministro dell'interno, purtroppo il ministro Salvini, non c'è ministro della paura che possa nascondere o trasformare quella verità nei confronti delle persone che vivono in prima linea questo che io definisco il dramma più grande del nostro tempo. Che per i Lampedusani questo dramma più grande del nostro tempo ha dei nomi, dei cognomi, delle facce, delle storie. Grazie al fatto che abbiamo non solo recuperato corpi e cadaveri ma salvato vite. Trecentomila persone in vent'anni, io ho calcolato, Lampedusa ha salvato in questi anni. Sono quelli che io ho chiamato i nuovi trecentomila Lampedusani in giro per il mondo che io immagino a lavorare, a contribuire a portare avanti le nostre nazioni, a pagare le pensioni ai nostri anziani. Grazie al fatto che abbiamo fatto anche esperienza della vita, che abbiamo avuto l'orgoglio, il grande onore di salvare la vita alle persone, di avere visto arrivare neonati, nati nei campi della Libia, frutto quasi sempre di di violenza e non dell'amore, purtroppo, accompagnandosi con ragazze sole che sono state violentate nei campi, nei lager della Libia, ma che a volte sono nati sulle motovedette della guardia costiera, sui barconi o proprio appena arrivati a Lampedusa. Grazie a loro, alla gratitudine che loro hanno mostrato verso di noi, ai loro sorrisi, alla loro forza, al loro eroismo, non ci siamo lasciati abbattere dalla disperazione o dalla solitudine. Abbiamo lottato. Come dicevo all'inizio, quando sono diventata sindaco sapevo che la mia isola non era un luogo qualunque e che come sindaca non ero stata chiamata soltanto ad occuparmi dei Lampedusani e delle grandi emergenze normali, quotidiane, che è la mia isola e che tutte le zone di confine, di frontiera, il cui destino di frontiera ha lasciato per troppo tempo nell'abbandono e che quindi hanno i loro grandi problemi di sanità, di scuola, di strade, di servizi, di trasporti, di isolamento. Non ero stata chiamata soltanto ad occuparmi di questo, ma ad occuparmi anche dei nuovi Lampedusani che sarebbero passati dalla mia isola. E però devo dirvi che per quanto preparata e per quanto pronta non mai avrei potuto pensare di vedere orrori così grandi come quello del naufragio del 3 ottobre. Quando ho risentito quell'audio che avete sentito tutti era soltanto passata una settimana dal naufragio, dal grande naufragio del 3 ottobre 2013 di Lampedusa, 366 morti. Quel naufragio causato dalla mancanza di soccorso, dall'omissione di soccorso e c'è un processo in corso nei confronti di chi non ha fatto pienamente il suo dovere e ha rimbalzato la palla tra Italia, Malta, Italia, Malta e nel frattempo le persone morivano e sono morte. Gli unici corpi recuperati sono stati 26. Io a Lampedusa avevo già centinaia di corpi in putrefazione, in un posto così piccolo e noi non avevamo un obitorio, c'è le frigorifere, anche il problema di come conservare questi corpi, di dove metterli era un grande problema. L'odore della morte, l'odore di quei corpi per vaso, l'isola per un mese. Mi hanno chiamato di notte per dirmi stiamo portando a Lampedusa i superstiti di quel naufragio dei siriani e i corpi, i 26 corpi e io gli dicevo ma a Lampedusa abbiamo già i superstiti ancora del naufragio del 3 ottobre, tenuti in sovraffollamento dentro un centro di accoglienza strapieno e ho tutti i corpi, stanno finendo le bare. Lampedusa è lontana dalla Sicilia, il doppio che dall'Africa. Sono 120 miglia marine, sono 8-10 ore di navigazione con la nave. erano finite le bare, dei corpi che man mano andavamo prendendo e che arrivavano con la nave, non avevamo celle frigorifere. Dove metto questi altri 26 corpi che mi state mandando? li abbiamo dovuti tenere nel camion frigorifero e il camion frigorifero era quello che ho dovuto requisire ai cittadini di Lampedusa, agli imprenditori che esportano il pesce perché non avevo altro modo dove conservare questi corpi in attesa che arrivassero le bare per sigillarle come misura igienico-sanitaria a difesa della comunità, a difesa degli stessi superstiti. Quando una comunità vive questi orrori chi può farla? Chi può farle paura? Di cos'altro possono avere paura i Lampedusani? Non certo di coloro che arrivano vivi. Le prime minacce che io ho ricevuto da forze estremiste di destra e su cui c'è un processo ancora in corso. È stato perché un'agenzia, la DN Cronos, ha pubblicato una mia intervista con un titolo in cui io affermavo noi speriamo che gli sbarchi ci siano. In realtà ovviamente non volevo dire quello alla domanda avete paura degli sbarchi? Io avevo risposto no perché da vent'anni li abbiamo affrontati da soli e anzi adesso grazie alla mia sindacatura e alle battaglie che abbiamo condotto avevamo combattuto e superato l'emergenzialità, organizzato tutta la filiera dal primo soccorso alla prima accoglienza in modo da rispettare le persone che arrivavano ma anche da far respirare la comunità, da far riprendere il turismo perché l'unica paura che i Lampedusani hanno avuto era quello di morire, che morisse il turismo e che quindi non avessero più capacità di sopravvivenza e solo l'emergenzialità poteva danneggiare il turismo. Avendo organizzato tutto il turismo è ripreso e siamo cresciuti del 30% e nel 2016 del 40%. Quindi degli sbarchi noi non avevamo paura, noi io avevo e ho paura soltanto dei naufragi, dei morti. Quando arrivano vivi noi siamo contenti e bisogna avere il coraggio, tutti dobbiamo avere, dovete avere il coraggio di dirlo questo. Non c'è mai stata l'invasione, non c'è l'invasione, probabilmente ci sarà perché i cambiamenti climatici faranno aumentare le migrazioni forzate dall'Africa. E se continuiamo a vendere armi a quei paesi, se continuiamo a contrabbandare gli aiuti allo sviluppo, invece di investire negli aiuti allo sviluppo, investiamo nella esternalizzazione delle frontiere, nella costruzione di muri, nella costruzione di polizie, di navi militari invece che di canali sicuri e legali di ingresso, le migrazioni forzate aumenteranno. Non ci sono state invasioni. L'unica paura che dobbiamo avere è quella di essere complici e colpevoli di una strage che non è causata soltanto dal mare, ma dalle nostre leggi, dalle politiche di chiusura repressive che considera queste persone come uno scarto dell'umanità. Meglio se muoiono in mare e quando arrivano rinchiudiamoli nei centri d'accoglienza, non facciamo politiche di integrazione, teniamoli ai margini della società e poi lamentiamoci se diventano delinquenti o terroristi. Ecco quello che abbiamo costruito. Abbiamo costruito una cultura della paura che dobbiamo contrastare con una cultura del coraggio, lo stesso coraggio che possiamo imparare proprio da loro. Ecco, da loro i Lampedusani hanno preso la forza e il coraggio. Da loro dobbiamo imparare il coraggio di andare avanti, di guardare al futuro con speranza. E il futuro non può che essere costruito con un'etica della responsabilità, in cui tutti i paesi europei facciano la loro parte nell'accoglienza. Questo è il messaggio che voglio portare qui oggi perché, come tante volte ho denunciato, insieme a loro nel Mediterraneo non muoiono i nostri valori, muore lo stesso progetto europeo. Stanno morendo le nostre democrazie, possono morire le nostre libertà. Questo dobbiamo avere chiaro. Dobbiamo quindi combattere la cultura della paura con la cultura del coraggio, della pace, della solidarietà.